Le 118 vittime della strage avvenuta all'inate l'8 ottobre 2001 sono state ricordate stamane nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano con una santa messa in suffragio presieduta da Monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara. I familiari parenti delle vittime riuniti nel comitato 8 ottobre sono giunti da tutta Italia accompagnati da rappresentanze istituzionali dei loro comuni. Presenti oltre al sindaco Giuliano Pisapia per la regione l'assessore Raffaele Cattaneo e per Palazzo Isimbardi il presidente del consiglio provinciale Bruno D'Apey. Non ha fatto mancare la sua presenza anche Pasquale Padovano, l'unico sopravvissuto della strage che dopo decine di interventi chirurgici porta ancora sul volto i segni di quella giornata drammatica quando un velivolo di linea delle linee aeree scandinave urtò in fase di decollo un piccolo Cessna. L'esplosione provocò appunto 118 vittime. Monsignor Brambilla nella sua omelia ha detto che dopo una tragedia come quella di Linate non basta elaborare il lutto ma bisogna che questo diventi forma di vita nuova. Alla funzione ha partecipato anche Gabriele Albertini che era sindaco nel 2001. Per i parenti i ricordi terribili mai cancellati chi ha perso un figlio e chi il marito. Più avanti e peggio è. Per noi meno io parlo per me personalmente io e mia moglie però è sempre come il primo giorno non cambia niente. Voi che avete avuto sull'aereo? Io. Quanti anni avete? 33. Purtroppo sono tutti libri tranquilli e noi siamo qui che soffriamo dal primo giorno e chissà durerà fino alla morte penso. Ma cosa pensate che era una cosa che si poteva evitare? Io penso proprio di sì. Lei signora ha avuto il marito su quell'aereo? Sì aveva 56 anni stava andando a lavorare come tutti i 118. 56 anni che sono molto pochi era uno dei più vecchi. Pensi che tragedie in mano. 118 persone che stavano andando al lavoro e sono state ammazzate perché ormai si sa sono state ammazzate. Omicidio colposo plurimo in strage. Grazie. Grazie.